. ... E come voliamo a porto di mezzo, rimane due volte con proiezione, rimane due volte con proiezione. E come voliamo a porto di mezzo, rimane due volte con proiezione, rimane due volte con proiezione, rimane due volte con proiezione. E come voliamo a porto di mezzo, rimane due volte con proiezione, rimane due volte con proiezione. Rimane due volte con proiezione, rimane due volte con proiezione, rimane due volte con proiezione. E come voliamo a porto di mezzo, rimane due volte con proiezione. E come voliamo a porto di mezzo, rimane due volte con proiezione. E come voliamo a porto di mezzo, rimane due volte con proiezione, rimane due volte con proiezione. E come voliamo a porto di mezzo, rimane due volte con proiezione. E come voliamo a porto di mezzo, rimane due volte con proiezione. quando sei bella, ti faccio un saluto a tutti quanti, ti faccio un saluto a tutti quanti. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. 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 A presto.